ciao sono dorian ho 26 anni e sono qua appunto come potete vedere per il trapianto vengo da pavia e ho deciso di fare il trapianto da diverso tempo era già da un po di anni che lo volevo fare però non avevo mai trovato quella clinica che mi portasse a decidermi di farlo poi ho visto appunto tramite i social instagram per la precisione la long air e devo dire che sono esaltato estremamente contento di tutta l'esperienza perché oltre ad essermi vicini tutto quanto hanno organizzato in modo tale che i primi giorni io potessi vivere la città a vivere istanbul e fare quanti quanti più giri possibili e nulla ieri c'è stata l'operazione e oggi il primo lavaggio per quanto riguarda la loro ospitalità mi sono appunto trovato benissimo perché c'è sempre stato un supporto e su whatsapp comunque rumesa è stata gentilissima mi ha accompagnato in tutto il percorso è sempre stata presente durante tutte le operazioni e anche qui presente adesso e ho sempre avuto comunque un supporto anche a livello di spostamenti per quanto riguarda il dolore o comunque possibili difficoltà non ne ho avute però veramente sono stati favolosi e adesso io seguirò un percorso che mi assisterà per un anno mi hanno dato tutte delle lozioni e dei prodotti per lavare i capelli e nulla speriamo che vada tutto bene ma sono fiducioso perché anche loro mi hanno detto che il risultato è venuto benissimo grazie di tutto e grazie alla long